recupero investimenti e beni come recuperare il denaro rubato. Quando qualcuno è accusato di evasione fiscale, va incontro ad un disastro finanziario, perde la propria fortuna ed è tenuto a consegnarla allo Stato. Peggio ancora però è quando qualcuno perde i propri soldi già tassati per frode e appropriazione in debita. Ed è ancora più grave quando l'autore è una persona di fiducia, quando il criminale è una persona vicina. Questo video mostra come riusciamo a recuperare il tuo patrimonio quando è stato rubato. Buongiorno, sono Enzo Capputo con Swiss Banking l'Ouest o come ti parlo da Zurigo o Parade Platz. Ti senti vittima o sei stato imbrogliato dai tuoi consulenti o dai tuoi soci? Temi di aver perso per sempre i tuoi soldi? Non rimpoverarti, non è colpa tua. Non è colpa tua se sei stato una vittima di una frode o di una appropriazione in debita. I truffatori sono molto esperti in quello che fanno. Chiunque può diventare vittima di frode, basta riprendersi i propri soldi. Noi ti aiutiamo a recuperare i tuoi soldi. Dovete sapere che in Svizzera banchieri, asset managers, amministratori fiduciari, avvocati si occupano da anni del denaro fiscalmente neutrale, cioè del denaro non tassato. Le stesse strutture offshore sono state usate dai truffatori per nascondere i soldi rubati. Sono le stesse strutture con le quali si nascondono soldi evasi. Conosciamo molto bene i sistemi con i quali vengono nascosti. Per questo abbiamo l'esperienza necessaria per rintracciare i soldi che ti sono stati rubati. Sappiamo che questi soldi finiscono spesso sui conti di ditte delle isole vergini britanniche, dei conti delle British Virgin Island Companies, aperti presso banche svizzere. Sappiamo come funzionano i conti omnibus e sappiamo come funzionano i conti transitori. Siamo ben collegati e ben informati. Zurigo è piccola e tutti conoscono tutti. Quando cerchiamo qualcosa di soldi la troviamo, nonostante il segreto bancario. Conosciamo le strutture preferite usate impropriamente dai truffatori per nascondere e proteggere i loro soldi. Abbiamo contatti con vari centri offshore sparsi nel mondo. Grazie alle nostre attività di compliance quasi ogni giorno abbiamo a che fare con gli esperti forensi di maggior successo che ricevono incarichi anche da PricewaterhouseCoopers e dalle maggiori banche svizzere. Conosciamo le legislazioni degli altri paesi e strumenti come la Morewa Injunction utilizzata all'estero spesso nei paesi anglosassoni per bloccare i conti. Con una procedura di assistenza giudiziale internazionale ne riottiniamo l'accesso attraverso il velo della persona giuridica, perforeremo il velo della persona giuridica, piercing the veil of the legal entity. Prendi subito l'iniziativa, tieni il timone e ricupera ciò che è tuo. Prendi in mano il telefono ora e fai il numero 0041 44 212 4404. Non è mai troppo presto ma spesso troppo tardi. Ti aiutiamo noi a riprenderti i tuoi soldi. Grazie dell'ascolto.